Con la partenza di Paul Pogba desinazione Manchester, Beppe Marotta ha già individuato l'uomo per il centrocampo bianco-nero. Axel Witzel è infatti a un passo dai campioni d'Italia, che hanno trovato l'accordo con lo Zenit per 18 milioni più 2 di bonus. Operazione ormai ai dettagli che regalerà a Massimiliano Allegri un giocatore più simile a Marchisio che ha rimpianto francese. Il Belga si è dimostrato un abile passatore offensivo con percentuali vicini al 90%, ma in Russia si è anche rivelato un ottimo recuperatore di palloni, con una media per gara, addirittura salita in Champions League da 6 ad 8. Witzel ha ottenuto buone statistiche anche nei due L20, utilizzando a pie nel suo 1,86 m. L'ormai ex Zenit ha fornito solo 4 assist nel suo quadriennio russo, realizzando però un gol ogni 7 partite. Qualità e anche tanta quantità per un centrocampista che dovrà integrarsi a più presto nello scacchiere di Allegri.